Telespettatori di Irpini Asagno, quest'oggi apriamo il nostro appuntamento con informazioni, con una notizia ancora una volta triste, ancora una volta da segnalare l'ofantina killer. Su questa strada siamo nei pressi a cavallo tra il territorio campano e il territorio lucano, in una curva molto pericolosa, un incidente mortale. Un camion che proveniva da Melfi in direzione Calitri si è ribaltato schiacciando letteralmente un'autovettura. Nella stessa purtroppo fino a pochi minuti fa c'era il corpo senza vita di un uomo, ancora non si conosce di chi si tratta, ma il tutto perché le condizioni dell'auto erano davvero drammatiche. In azione i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo e dei Lombardi, della stazione di Calitri e gli uomini dei vigili del fuoco che hanno tirato fuori, non senza difficoltà, il corpo senza vita del povero uomo. Ora praticamente ci saranno tutte le indagini del caso, i carabinieri sono ancora sul posto per i rilievi dell'incidente. Sta di fatto che ancora una volta dobbiamo segnalare l'ofantina per un incidente mortale. Grazie.